Non è ancora sconfitto il batterio New Delhi, è salito a 126 da novembre 2018 il numero di pazienti in Toscana nel cui sangue è stato isolato. Questo secondo gli ultimi dati diffusi dall'Agenzia Regionale di Sanità della Toscana. L'alarma Infezioni da Assistenza Ospedaliera ha riunito a Firenze medici, farmacisti, dirigenti Asle per fare il punto e soprattutto per concertare un piano di lotta al fenomeno dell'antimicrobico resistente. Durante la giornata di studi dal titolo lotta alle infezioni correlate all'assistenza all'Auditorium della Nazione, promosso da Motore e Sanità nell'ambito del progetto Ecarete, sostenuto da Menarini, si è parlato in particolare dell'area nord-ovest con Pisa, città da codice rosso che ha segnalato per prima il focolaio epidemico. Nuova Delhi, un serbatoio di colonizzati che supera i 1500, c'è del lavoro da fare. La letalità di questo superbatterio è intorno al 35-40%. C'è un grosso impegno per contenere il cluster epidemico che è soprattutto nell'area nord-ovest, bisogna rafforzare le buone pratiche assistenziali, lavarsi le mani, fare molta attenzione. Ci vuole un rilancio anche della ricerca, nuovi antibiotici, ma non solo, ricerca di anticorpi monoclonali e messa a punto i nuovi vaccini antibatterici. Grazie a tutti.